Musica E vediamo se Un giudice Un giudice Una foto più o meno contrastata Un giudice Un giudice Un giudice Un giudice Questa è una foto fatta fuori fuori E' questa l'esperienza Mi spegge un giudice vedo l'accello e vedo la mia immagine, la carta si riesce a vedere, che qui è lucida, la vedete? La baritata, dicevo prima, è molto più complicata, perché la baritata, più che si tiene uno sviluppo, più che lei si è inarmi in modo. Inizio a muovere questo movimento. Dalla mozione, e vai! In questa realtà è certe. Le bacinelle non vanno mai mischiate, questa la uso sempre per lo sviluppo, questa sempre per lo sviluppo, e questa sempre per il santo. Sgocciolo, è possibile, e passo nello stocco, quindi tento a restringere un po'. Mi sto impedendo all'oceno. Esatto, comunque. Per un attimo? Sì. Ecco. Quando mi sono benvenuti mi fermo, ora non. Due secondi, inizio. Vedete? Ora mi sposto. Ovviamente la prima parte riceve sempre luce. La prima parte riceve... Non... Sì. Ho venuto fuori altra parte sola, sì. Un po' un po' un po' un abbraccio, senza consentimento. Sì. 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 Tutto qua e un po' un abbraccio. Sì. Sì. Grazie a tutti